E apriamo questa edizione con un collegamento in diretta dalla nostra redazione di Lecce con la collega Maria Teresa Carrozzo, vedo già pronta con il suo ospite l'assessore Paolo Foresio, si parlerà di centro storico perché con l'estate che sta arrivando probabilmente ci saranno alcuni cambiamenti ed alcune novità. Buongiorno Maria Teresa, buongiorno a voi. Buongiorno Maria Teresa, buongiorno a voi. Grazie per l'invito, abbiamo introdotto due anni fa il blocco delle nuove aperture per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione, quindi ristoranti, bar, perché c'era evidentemente un problema, bisognava tirare un attimo la linea e rimettere ordine. Provedimento, mi preme dirlo, già assunto da altri comuni prima di noi, Firenze, Bologna, su tutti, nel 2023 l'ho assunto anche Napoli, quindi dopo di noi. Il Comune di Lecce era in evidente ritardo perché l'avrebbe potuto già adottare l'amministrazione Perrone, quindi qualche anno fa, evidentemente non è stata quella la scelta politica, noi invece lo abbiamo voluto fare perché abbiamo ritenuto fosse indispensabile rimettere un attimo ordine. Scadrà a luglio del 2024, tra quindi poco e quindi poi da lì sarà possibile riaprire naturalmente ristoranti e pubblici esercizi. Io dico naturalmente la mia, se dovesse toccare a noi, noi sicuramente lavoreremo per prorogare il blocco, come fatto anche da altri comuni, perché ritengo che abbia dato comunque degli ottimi risultati, che siano comparse anche altre attività commerciali extra food, quindi abbigliamento, artigianato, quindi la strada è evidentemente quella. C'è una saturazione ormai e penso che sia opportuno, anche magari facendo prima dei passaggi con le associazioni di categoria e sicuramente anche con i residenti, ma credo che sia opportuno prorogare il blocco per consentire e aumentare sempre di più la diversificazione dell'offerta commerciale, che va a vantaggio sia della lecce turistica che dei residenti che, ricordiamolo, grazie a Dio sono ancora tanti nel centro storico. L'ultima domanda, ma risposta flash, perché siamo all'interno del Tg, ovviamente andrete a decidere se confermarono il blocco, ma i residenti cosa ne pensano, cosa vi chiedono? I residenti ci chiedono di confermare il blocco, perché ovviamente capite bene che tanti ristoranti già ci sono, vanno bene, funzionano e rendono, come dire, vivace la movida e pensano che possa bastare. Grazie mille all'assessore Paolo Foresio, Valentina se non hai domande ripasso la linea in studio. Nessuna domanda, grazie all'assessore, grazie a te Maria Teresa, buon proseguimento di lavoro. Grazie.